Ciao ragazzi, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Iscrivetevi al mio canale chi non l'ha già fatto e attivate la campanellina per le notifiche e mi raccomando lasciate tanti like oggi. Continuiamo con Distruggi questo diario che proprio puzza veramente ed è pieno di terra. Va bene, continuiamo con la prossima pagina che vediamo quale sarà. Vendi questa pagina, so già a chi venderla. Zio! Allora, ti do a vendere una pagina del diario. Mi devi venderti una pagina? Sì! Non è pure brutta, non capisci. Che affari che faccio. Quindi? Ti do due pezzi. Devo pagartela? Sì. Facciamo questo affare, va. Che affarone ragazzi. Ho comprato questa pagina per appena 5 euro. Bene, questa pagina l'abbiamo fatta. Ora facciamo un'altra. Chiudi il diario. Scrivi scarabocchia qualcosa sui lati. No, scrivo YouTube. No, scrivo YouTube. No, no. Trottino. Fan. Trecento iscritti. Poi trottino. Zio. Poi è pazzo. Apriamo un'altra pagina. Scrivi al contrario. Zio è matto. Perché non ci manca mai? Zio è matto. Adesso lo leggo al contrario. Ottam è oiz. Invece, Alice, no. Sbagliato. Perché? No, lo devi scrivere al contrario. Riscrivilo qua sopra, dai. Riscrivilo qua sopra. No. Ancora uguale riscrivilo. Ignoranti. Vedete che io sono intelligente. Allora. Ora le dico al contrario. On. On. Ecila. Enbi. E. E. Ecebi. Apriamo un'altra pagina. Colora fuori dai contorni. Ok. Poi tutto è anche fatto male. Questo è il cervello di Zio. Questo invece è il cervello di Alice. Sì, va dentro. È vuoto. Zio. Cosa devo fare? Mi chiedi a un amico di compiere una... No, aspetta. Mi chiedi a un amico cattivo? Eh, cattivo adesso. Chiedi a un amico cattivo di compiere un atto distruttivo su questa pagina. Non guardare. Quindi io chiudo gli occhi, potete vedere solo voi. E' un po' troppo distruttivo. E' un po' troppo distruttivo. E' un po' troppo distruttivo. Che te l'ha fatto Zio. Bene. Ma lo Zio è veramente pazzo. Guardate cosa ha fatto. Ah, non ci posso credere. Ragazzi, allora aprirò una nuova pagina. Infondi un odore a scelta in questa pagina. Zio. Che puzza. Ho aperto una nuova pagina e c'è scritto una pagina per parole di quattro lettere. Allora. Casa poi. Sera. Rana. Rana. Cena. Vaso. Bene ragazzi, noi abbiamo scritto su questa pagina un po' di parole con quattro lettere. Scrivete nei commenti quale parola che vorrete che nel prossimo video scriveremo su questa pagina. Dicendo pure chi l'ha scritte. Mi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per le notifiche di ogni video che faccio. E noi ci vediamo domani con una bellissima avventura. Ciao.